Faccio appello alla coscienza dei governanti affinché si giunga ad un consenso internazionale per l'abolizione della pena di morte e propongo a quanti tra loro sono cattolici di compiere un gesto coraggioso ed esemplare che nessuna condanna venga eseguita in questo anno santo della misericordia. Con forza Papa Francesco alla vigilia di un simposio contro la pena di morte organizzato dalla comunità di Sant'Egidio ha pronunciato all'Angelus queste parole appellandosi soprattutto ai cristiani perché si impegnino a cancellare questa pratica barbara e facciano di tutto per migliorare la condizione di chi vive in carcere. La società moderna, ha rimarcato il pontefice, ha oggi la possibilità di reprimere efficacemente il crimine senza togliere a colui che l'ha commesso la possibilità di redimersi perché anche il criminale, ha detto, mantiene l'inviolabile diritto alla vita. Il Papa ha invocato una giustizia penale che sia sempre più conforme alla dignità dell'uomo e al disegno di Dio ricordando che il comandamento non uccidere ha valore assoluto e riguarda sia l'innocente sia il colpevole. Poco prima, prendendo spunto dal Vangelo del giorno, Francesco è tornato a parlare del suo recente viaggio in Messico descrivendolo come un'esperienza di trasfigurazione dove Dio ha mostrato la luce della chiesa di quella terra e del suo popolo, spesso oppresso, disprezzato e violato, ma tanto amato dalla Vergine di Guadalupe che tiene negli occhi i dolori di tutti i suoi figli. L'eredità del Messico, ha concluso il Papa, è quella di custodire la ricchezza della diversità e manifestare l'armonia della fede comune. Il suo pensiero è andato poi allo storico incontro a Cuba con il Patriarca Kirill, un evento definito come una luce profetica di risurrezione verso la pace e l'unità di cui il mondo oggi ha bisogno. Al termine dell'Angelus, anche un dono del Pontefice ai presenti, la Misericordina, una medicina spirituale per aiutarci nel cammino di conversione della Quaresima. Al termine dell'Angelus, anche un dono del Pontefice ai presenti,